Buongiorno Madmen e buongiorno aspiranti Madmen e bentornati al nuovo CryptoEspresso, il nostro appuntamento del giovedì durante il quale andiamo a fare un po' di analisi di mercato controllando la situazione dal punto di vista delle news, dei fondamentali, un minimino di analisi tecnica. Insomma cerchiamo di capire un po' cosa stia succedendo. Prima di cominciare vi ricordo come sempre che questo è solo uno dei vari contenuti formativi che facciamo all'interno della community dei Madmen, quindi se siete curiosi di approfondire trovate il link di accesso in descrizione e anche il link per l'acquisto del corso che fa un po' l'ABC per avvicinarvi al mondo del crypto trading e che appunto se vi incuriosisce un po' a capire cosa succede dietro le quinte della nostra community c'è la possibilità di entrare for free e farsi un'idea di prima mano. Cominciamo subito, visto che abbiamo un po' di cose da vedere, con la parte delle notizie. Allora, per quanto riguarda le notizie vi ho selezionato tre notizie principali come al solito, tra l'altro per chi non l'avesse ancora visto vi ricordo che abbiamo cominciato da poco la nuova programmazione, che quindi anche il martedì esce un piccolo estratto di una live che facciamo invece internamente ai Madmen solo per gli iscritti, ma con la parte della notizia pubblica, quindi anche lì avete questo doppio appuntamento. Ma vi dicevo, tra tre notizie che vi ho selezionato ce n'è una che va a confermare in realtà, che riguarda una cosa che aspettavamo da tempo e va a confermare quello che è uscito ieri come leak, quindi come fuoriuscita non prevista di informazioni, a proposito dell'ordine esecutivo firmato da Biden. Ora, il discorso del tentativo da parte degli Stati Uniti di regolamentare le cripto, di trovare una quadra formativa per le cripto, è un discorso che va avanti da mo' e ne abbiamo parlato più volte, ne abbiamo parlato sia in relazione poi all'attività della Fed e della SEC, ma sia in relazione proprio all'iniziativa del governo. E questo, tra l'altro, era un po' una delle spade di Damocle, per così dire, che ci pendevano sulla testa, perché nel corso del tempo si sono alternate diverse posizioni legate in origine al discorso dell'infrastructure bill e poi in seguito ad altre riflessioni su questo aspetto, che però non sempre facevano, non sempre spingevano a favore di una normativa non dico neanche intelligente, ma costruttiva nei confronti del cripto. In realtà il leak che è uscito ieri e che poi appunto è stato di fatto confermato dal documento ufficiale oggi, cioè firmato da Biden a seguire, è che la normativa prevista dal governo degli Stati Uniti per regolamentare il cripto è molto, cioè non è che sia più morbido, però ha delle maglie più aperte o comunque più propositive rispetto a quanto non si potesse pensare inizialmente. Che cosa significa banalmente questo? Significa che gli Stati Uniti individuano nel comparto cripto un qualcosa di promettente, un qualcosa di interessante, un qualcosa anche di rischioso che quindi va regolamentato e leggendo tra le righe quello che emerge a questo decreto è una volontà di appunto trovare una quadra che sia normativamente sensata, che non vada in direzione di un ban, ma vada in direzione o comunque di una chiusura, ma che vada in direzione di un'interazione, ma che soprattutto vada a tutelare quelli che sono i clienti, i customer, quindi che vada a tutelare gli investitori, il singolo cittadino e via dicendo. Quindi una cosa molto in linea con quello che ci si deve aspettando un governo, molto sana almeno nelle premesse, dal mio personalissimo punto di vista, nei confronti di una regolamentazione del settore, molto meno appunto che non si sia andati a tirare, ad entrare a gamba tesa sul mondo cripto dicendo no va bannato, dobbiamo chiudere tutto, eccetera, eccetera, eccetera. E' interessante appunto che ci sia stata anche un'apertura molto dichiarata anche in direzione delle SIMDC, quindi delle volute digitali gestite dalle banche centrali, in questo caso statunitense. Quindi in generale che quello, ripeto, che si può leggere tale righe è riconosciamo che questo è un comparto che orienta nel più ampio settore dei beni digitali e che va in qualche maniera normato e questo ci sta, è più che legittimo. Riconosciamo che sia un settore estremamente promettente, non andiamo a metterci bastante la ruota e ma non lasciamo nemmeno che sia da far questa. Quindi un qualcosa, again, molto, molto, molto positivo. Diciamo che non a caso ha avuto, ma ci arriviamo tra poco nella parte analisi tecnica, ha avuto come risultato un bel pump dal punto di vista, purtroppo già corretto, ma dal punto di vista della press action. A proposito del leak di ieri, per chi di voi non l'avesse ancora visto, quello che è successo è stato semplicemente, è stato che è uscita prima del tempo una dichiarazione legata a Janet Yellen, lo, scusatemi, lo avete qua, il segretario del tesoro, che sostanzialmente dava un feedback, commentava l'ordine esecutivo che poi sarebbe stato, in teoria, fermato poco dopo da Biden. E questo leak ha dato quindi, diciamo uscito prima del tempo, ha dato al mercato una ventata di positività, anche dal punto di vista di press action, perché a livello di informazioni, contenute di feedback che arrivava, quello che è emerso è stato appunto uno scenario molto più positivo rispetto a quello che probabilmente moltissimi, ma incluso, si sarebbero aspettati. Tra l'altro da parte della Yellen, che di base è sempre stata abbastanza avversa nel cripto. Quindi questo senale di apertura è stato poi recepito dal mercato, che ne ha ricavato un pump, che vi ripeto, tra poco vedremo, poi in realtà è andato a ritacciare configurando una classicissima BART, e vabbè, ma questa è un'altra questione. Quindi molto positivo. Seconda notizia, che va sempre in una direzione molto positiva, il Parlamento europeo voterà la famosa, il 14 marzo, voterà la mica, ovvero sia, scusate, ma non mi ricordo mai la definizione esatta, Markets in Crypto Assets, appunto, o mica, che è un, diciamo che è di nuovo un disegno di legge, una bozza, che si stava trascinando da Moll, sulla quale si è parlato tantissimo, che da molti era vista come un potenziale pericolo per il mercato cripto nello scenario europeo. Ora, uno dei principali temi di questa, adesso non entro nello specifico, anche perché poi vi leggo l'articolo, insomma avete modo di approfondirlo, approfondirlo anche da voi, ma vi metto a fuoco come una sorta due o tre cose principali. Uno dei punti dolenti, potenzialmente dolenti di questo disegno di legge, è quello legato alla proof of work, quindi ad una possibile stretta, molto seria, in relazione alla proof of work, che come sapete è alla base di Bitcoin ed è alla base ad oggi, anche se l'obiettivo è quello di eliminarla nel tempo, fino all'arrivo di Ethereum 2.0, è alla base anche di Ethereum. Ora, il fatto che non si sia andato ad attaccare, a inserire con un procedimento specifico la proof of work all'interno di questo disegno di legge è bene e male al tempo stesso. È bene perché non va a segare le gambe a Bitcoin ed Ethereum e in generale ad altri progetti prima del tempo, quindi bene perché non è di nuovo un intervento a gamba tesa. Male, questo dal mio punto di vista, perché se ci fosse stato un, magari non dico una stretta totale, e so dire una cosa in questo modo antipatica, ma una setta parziale sul tema proof of work, se è stato anche più semplice favorire in modo più rapido quello che sta già avvenendo, cioè una transizione dei progetti di crypto verso una dimensione energeticamente più sostenibile. Non entro nel merito, anche perché vi farò dei contenuti al riguardo sul tema sostenibilità e crypto, ma sapete che da un punto di vista di struttura la proof of work non è minimamente comparabile in termini di spendo energetico alla proof of stake o ad altri sistemi di proof. Ma allo tempo stesso, purtroppo ad oggi, è ancora alla base Bitcoin. Sono stati fatti una serie di interventi, anche a segretore ban cinese, per rendere più sostenibili le fonti di approvvigionamento energetico, stanno venendo avvarate tutta una serie di buone pratiche. Ripeto, è un tema su quale torneremo, ma sicuramente il fatto che la proof of work non sia stata inserita all'interno in questo disegno di legge, ripeto, è una medaglia con due facce. E la faccia negativa è che sarebbe stata una buona cosa, forse, in maniera delicata, non in maniera eccessivamente stringente, ma per favorire un po' una transizione in una direzione più ambientalmente, energeticamente sostenibile. Comunque, insomma, diciamo che di nuovo c'è un'apertura. Quello che è interessante che questa legge, di fatto, questa legge imposta un framework, quindi non va in modo molto specifico su singoli aspetti, ma definisce un quadro normativo, un perimetro generale all'interno del quale poi ci si dovrebbe poter muovere. E questo, ripeto, per le cripto è sicuramente ossigeno. Ultima cosa, ma questa la faccio alla velocità della luce, perché va ad aggiungere un altro tassello al discorso già fatto durante le news di martedì, già fatto durante il video che ho postato sabato scorso su guerra, scusatemi, su Russia, Ucraina e appunto cripto, il tema delle sanzioni. A quanto pare è stato preparato un nuovo, diciamo, è stato arricchito il tema delle sanzioni con un'ulteriore serie di distrette che hanno a che vedere con diversi aspetti. Tra questi è previsto anche un aumento delle restrizioni nei confronti delle cripto. La cosa in realtà è già stata trattata con diversi exchange, vi rimando ai contenuti precedenti per vedere, insomma, per vedere i dettagli, ma quello che è interessante è che non è stato fatto un, diciamo, non sono state prese le cripto direttamente in questione. Scusate, non sono state prese in questione direttamente le cripto, sono state invece inserite, diciamo, assimilate al concetto di titoli trasferibili. Quindi diciamo che le cripto sono state inserite in questo quadro, ma non andando a fare un intervento specifico e verticale su di loro. E questo è interessante perché, di nuovo, non c'è un accanimento sul settore specifico delle cripto, ma c'è un loro inserimento all'interno di misure più ampie. Qua, vedete, c'è anche una cosa specifica sul fatto che sono stati messi nel merino 160 oligarchi, membri del Consiglio della Federazione Russa, insomma, si sta andando in maniera molto chirurgica e questo è bene perché si evita di fare di tutta l'arbonfascio e di favorire tutta una serie di narrative molto stereotipate e molto generaliste sul fatto che cripto è male, cripto si vadano le sanzioni, cripto sono la soluzione per impedire sistemi di controllo o di, appunto, sanzionamento in casi come quello drammatico, purtroppo, al quale stiamo assistendo. Insomma, è molto sana come cosa. Di nuovo, qui non entro troppo nel merito perché ne abbiamo parlato talmente tanto che sarebbe un po' allungarvi inutilmente il brodo. Questione Fear, Ready Index, Crypto Coin 360 e CoinGecko. Allora, qui nulla da segnalare, quindi questo lo saltiamo al volo, nel senso che la questione di Fear sia un pochino alleggerita, ma siamo comunque in una situazione di extreme fear, il che come sempre mi fa sorridere perché, scusate, salto un attimo avanti e poi torniamo indietro, perché essere in extreme fear a 40.000, che sono dei valori che fino a due anni fa manco ci sognavamo, è sempre una cosa che fa sorridere. Però, insomma, va considerato, siamo passati a una situazione relativamente neutrale dove il mercato stava cercando di capire cosa stesse succedendo, ha un sentiment molto più, molto più ansiogeno. Su Coin360 abbiamo una situazione sul giornaliero molto in rosso, con in realtà Bitcoin ed Ethereum che sono tra i più, non tra i più, ma sono abbastanza sofferenti, più paradossalmente dell'altcoin, ma c'è un motivo, poi lo vedremo, c'è un motivo, c'è un risconto a livello di dominance che poi vedremo e anche sul settimanale comunque abbiamo dei movimenti abbastanza in rosso. Tenete conto che il pump al quale abbiamo assistito a seguito del leak dovuto a Biden, del leak appunto dell'ordine esecutivo di Biden, è stato già, almeno per il momento, riassorbito da una correzione, praticamente parallela appunto alla BART che vi dicevo prima. Quindi ci sta che vediamo rosso, anche perché vediamo comunque da un periodo in cui l'incertezza della guerra sta facendo aumentare moltissimo la volatilità di Bitcoin e dell'altcoin, quindi insomma tutto abbastanza normale. A livello di losers, gainers e losers, nulla di particolare da segnalarvi sulle 24 ore a parte appunto Waves, che vedete ha fatto un 15%, ma per il resto di fatto non abbiamo gainers. Su losers abbiamo cose più importanti, vedete, meno 11, meno 10, meno 9, ma comunque siamo all'interno di cifre non eccessive, cioè a parte Monero e Phantom, ma tutto il resto è di sotto del 10%. Ed è anche questa una cosa che rispecchia notevolmente la situazione di alta volatilità e di incertezza del mercato. Sui sette giorni sul settimanale abbiamo una performance abbastanza fuori di testa a parte di Waves, Synthetix si gira al 18%, poi abbiamo Zcash, quindi Privacy Coin, ma di nuovo vedete che anche qui abbiamo dei numeri più contenuti sui gainers, dei numeri invece più importanti sui losers, dove sul settimanale anche con nomi come Solanax, Infinity, lo stesso Phantom e via dicendo, vedete che ci sono delle percentuali anche molto molto più importanti. Però ci sta, ci sta perché come abbiamo detto più volte è un momento di altissima volatilità, è un momento di estrema incertezza per tutto il contesto economico mondiale e geopolitico, quindi non c'è nulla di particolarmente strano che debba stupircene di questa situazione. Coppia che scoppia, qui abbiamo come al solito Total Market Cap e Dominance, qui io non ho toccato niente, sapete che su Market Cap e Dominance, ma come un'analisi tecnica, aggiusto progressivamente la strategia e i disegni, ma finché non vengono o invalidati o non intervengono delle novità, degli elementi che mi permettono di ribilanciarli, tento di lasciarli il più intoccati possibili. Questo anche per un gioco divertente, gioco tra virgolette divertente a fare assieme, di vedere quanto corrette siano le figure che individuiamo, le previsioni a breve termine che facciamo, per quanto sappiate il mercato non si preveda ma si interprete, insomma per vedere un po' se le cose vadano come avevamo in qualche maniera letto e analizzato. E vedete che qui la Dominance sta continuando effettivamente, scusatemi, la Market Cap sta continuando la sua compressione, quindi all'interno di questo triangolo, andando a toccare e a confermare per il momento la resistenza del Trillions e 80, dell'1,80 e che quello che abbiamo guadagnato ieri sulla candela giornaliera era con questo bel body, con questa bella candelotta che è andata sostanzialmente a pampare, apportando di nuovo la Market Cap a livello 1,8, poi è stato quasi del tutto perso andando invece a correggere quel candelotto giornaliera di oggi. Ovvio che sarà da vedere stasera come si chiuderà questa candela ma per il momento siamo comunque all'interno di questa figura e abbiamo il supporto dell'1,80, la resistenza dell'1,80 ci ha rigettato in maniera abbastanza violenta. La Dominance è interessante, se non è impazzita, eccola qua, è interessante perché vedete che di nuovo sta confermando a trendline che avevamo tracciato la settimana scorsa e che è andata qui però a perdere. Allora, rispetto a quello che è successo, quindi ad una situazione di ritracciamento generale, sapete che di solito quello che si dice è che nel momento in cui il mercato ritraccia la Dominance in teoria a parità di Market Cap, o anche non a parità di Market Cap, dovrebbe andare a guadagnarci perché quelli che soffrono di più di solito in momenti di ritracciamento generale sono le Litecoin, i soldi tendono o a tornare su Bitcoin e fine o a tornare su Bitcoin e uscire dal mercato. In entrambi i casi di solito la Dominance in Bitcoin tende a salire. Il fatto che stia scendendo invece ci conferma quello che si vede anche a livello di grafici, ovvero sia che in questo momento paradossalmente Bitcoin, rispetto a quello che succede di solito, sta soffrendo più delle Litecoin e infatti qui non abbiamo un aumento della Dominance, cioè abbiamo una riduzione della Market Cap, abbiamo una situazione generale di sofferenza, ma abbiamo anche una riduzione della Dominance, che vuol dire che paradossalmente di nuovo le Litecoin stanno soffrendo meno di Bitcoin e questo è comunque interessante da notare. Per il resto vedete che stiamo arrivando alla fine di questa figura, vediamo se riesco ad allungarle senza fare il casino. Di questa figura questo avremmo potuto, vabbè io resistenze supporti le traccio sempre come fasce perché di solito non sono livelli di prezzo precisi, ma appunto sono fasce di prezzo, però riducendolo ad una linea vedete che in realtà questo di fatto è un triangolo. Quindi qui sarebbe credibile vedere un movimento in una delle due direzioni di conferma e invalidazione, conferma della trend e invalidazione della resistenza o viceversa. Scusate le casino, nel frattempo qualcuno mi sta sfondando la porta di casa. Velocissima analisi tecnica perché come al solito questo è tema di Mic e lo facciamo dentro la community, quindi qui vado a volo d'uccello. Vi faccio solo notare una cosa e cioè che il movimento, il pump di ieri, questo qui ok, che è stato un pump abbastanza importante perché parliamo di un 8, quasi un 9%, è stato invalidato, è stato diciamo completamente riassorbito dal dump di oggi. Vedete che sono quasi uguali le candele e tra l'altro tra i volumi e il body vedete c'è pochissima spike, quindi sono delle candele molto piene, scusate moltissima shadow, quindi e dai pochissima shadow, quindi sono delle candele molto piene, ci dimostra che insomma sono movimenti decisi con poca volatilità. Come vi dicevo prima, dobbiamo vedere stasera che cosa succederà, però per il momento sul giornaliero quello che vediamo ha un riassorbimento pressoché completo. E se andiamo sull'orario ad esempio, vedrete che, eccolo qua, vedete che quello che si va a disegnare è, non dico una Bart, un Bart, una o una Bart, mi ricordo me se si chiama Schillo Femminile, da manuale, ma quasi, nel senso che abbiamo avuto questo recupero con una candela molto piena, poi siamo andati a salire un altro po', dopodiché ci sono state una serie di candelotti di correzione molto pesanti, l'ultimo alle 4 di questa notte, che hanno riportato il prezzo sostanzialmente al punto di partenza. Queste non sono figure legate a, cioè possono essere figure legate a fenomeni specifici, ma tendenzialmente sono figure che, sono figure appunto di analisi tecnica legate ad un approccio fortemente, fortemente speculativo. Che cosa è successo? Che il leak della notizia di Biden ha portato della, scusatemi, dell'ordine esecutivo di Biden, ha portato a questo pump, il mercato, supportato a volumi molto importanti, è andato a salire e salire e salire, fatto la sua salita, qui è iniziato probabilmente un processo di vendita, di consolidamento dei profitti, o di trading sul breve termine, e di conseguenza il mercato è andato a correre, già tornando al punto di partenza. Sono figure che in questo periodo stanno avvenendo, è successo, l'ultimo è successo non molto tempo fa, non così chiara, ma quasi, che in realtà sono abbastanza legate a periodi di alta volatilità e che ci stanno con la situazione di incertezza attuale. Quindi, notizia positiva, parte, non c'è sotto una struttura sufficientemente sana e solida a livello di volumi, di sentiment, eccetera, per sostenere una crescita sana e di conseguenza questo si riduce, tra virgolette si riduce, a diventare un'operazione di trading nel breve termine, in cui chi è riuscito a consolidare il profitto, benissimo, torna giù e qui probabilmente può deciso rientrare, apre nuove posizioni o quant'altro. Chi invece non ci è riuscito, semplicemente, magari è entrato, preso dalla FOMO qui, per inesperienza, per ragioni emotive, per bias, e si trova il prezzo che di nuovo ricaccia. Quindi fate sempre attenzione, non è un consiglio finanziario, ma un consiglio d'amico su serio, no, fate le battute, è una riflessione strategica, ma in questi casi bisogna sempre fare attenzione, perché in un mercato molto volatile, con un sentiment non sufficientemente solido per supportare una crescita di mercato sana, con dei movimenti molto bruschi, molto violenti, quello a cui si può assistere sono appunto fenomeni di questo tipo, soprattutto contando, ragazzi, che siamo in un contesto, ripeto, economico, geopolitico e storico, estremamente delicato. Motivo per il quale io personalmente sto magari chiudendo qualche piccola posizione, come ho fatto ieri con Luna, che ho consolidato una parte del profitto di un investimento che avevo dentro, approfittando del nuovo oltremai, ma per il resto mi sto tenendo ancora più conservativo di quanto non sia di solito. E di nuovo, non è un consiglio finanziario, ma come al solito è una condivisione di strategia, di input, per darvi qualche stimolo per la vostra due diligence e anche per avviare un po' di dialogo sulla cosa. Chiudiamo con le metriche, così riesco a stare pulito dentro la mezz'ora. Allora, di metriche ne ho un po' più del solito, ma come vedete sono abbastanza rapide. Prima di tutti, il solito schema delle liquidazioni. Vedete che, aspettate che riduco un po' il periodo così, vediamo se riesco a far vedere, ok, in modo un po' più chiaro, vedete che quello che è successo il 9 e poi il 10 sono stati due fenomeni contraposti. Dal lato c'è stata una liquidazione di posizioni short, ed è quella che ha portato ieri ad aggravare, ad aumentare il pump, e poi c'è stato invece una partenza di liquidazioni long, quindi esattamente al contrario, che è andato ad aggravare, ad ampliare invece il dump e la correzione. Qui non vi faccio un pippone, perché se no andiamo troppo lunghi, sul concetto di liquidazione a cascata, sugli squeeze eccetera, ma perché l'ho detto mille volte e perché magari, per chi è dentro la community, anzi magari, perché dentro la community c'è all'interno del corso. Per chi non è dentro la community, prima o poi ci farò un approfondimento, se la cosa vi interessa, fatemelo sapere nei commenti in caso, così so che è una cosa che può aver senso fare, ma quello che mi interessa farvi notare è che ci sono praticamente due movimenti gemelli. È chiaro che se li vediamo rispetto ad altre liquidazioni avvenute in passato, sono dei pistolini veramente piccoli, sono delle barrette piccole, però è anche vero che il fenomeno al quale abbiamo assistito non è stato un fenomeno così incredibile, così pesante. Quindi diciamo, le due cose sono abbastanza coerenti. Questo ci dimostra di nuovo, ma questa è una mia posizione personale, quanto il lavorare sulle leve possa aver senso per certi profili di trading. Personalmente abbia poco senso perché ci espone a veramente dei rischi molto alti di partita di capitale e a dei fenomeni molto evidenti che poi sono quelli sui quali chi fa magari trading meno spinto, chi è diretto a fare investimenti long term, in realtà va a guadagnare perché fanno sì che il mercato si immobiliti molto, ma che chi magari sta ragionando un ottico nel long term insomma possa approfittarne fregandosi molto di più sugli effetti ai barretti. Ma questo è magari un discorso sul quale torneremo più avanti. Ultime metri che sono relative quasi esclusivamente agli exchange. Allora, ce ne sono, ce ne sono come al solito tante. Vi do la sintesi generale, poi ve ne mostro due o tre per darvi un attacco a terra. La sintesi generale è che gli exchange sono in una situazione di relativo equilibrio anche se in una macro ottica sono andati negli ultimi mesi, se non in realtà nell'ultimo anno e mezzo quasi, a vedere una riduzione progressiva delle riserve. Quindi dal punto di vista dell'exchange, quello a cui assistiamo è una situazione di relativo equilibrio per le posizioni spot. Al contrario, e questo vale per alcuni in particolare, quindi per lo più Binance, ma lo vedete, scusate, lo vedete a chi? Quindi, scusate, FTX e Binance. Dall'altra parte invece l'esposizione dell'exchange per la parte di derivati, per le parti di futures, eccetera, è andata ad aumentare nello specifico soprattutto per questi due exchange. Il che significa che il mercato, ma lo stesso abbiamo già fatto in qualche cripto espresso fa, è andato a stabilizzarsi un po', a maturare un po' sulla parte spot e ha spostato sulla parte dei derivati invece le posizioni, le strategie un po' più rischiose, un po' più aggressive, un po' più di, anche proprio di gestione della volatilità del mercato, con in realtà un effetto a catena, perché è vero che invece che sullo spot si aggiungono sui derivati, ma anche vero che i derivati sono all'origine dei, sono in buona parte l'origine dei movimenti più violenti, più volati del mercato. Quindi insomma è un po' un cane che si morde la coda. Però sicuramente c'è stata una crescita sulla parte dei derivati e quindi diciamo uno spostamento dei traders più speculativi sulla parte che lavora appunto su opzioni, futures, eccetera. Dall'altra parte viene confermato ulteriormente, questo è sempre a livello di macroscala, l'approccio, la differenza tra short terms e long terms. Quindi gli holders, i long term holders stanno continuando con grande serietà la loro strategia di accumulo o di attesa e quindi sono ancora, ma questo lo dico ogni volta, però visto che è un trend che stiamo analizzando, vale la pena di portarlo avanti finché la situazione non cambia, stanno mantenendo la loro strategia di appunto accumulo e attesa e quindi il loro sentiment resta positivo nei confronti bullici, nei confronti del mercato perché se non vendono è perché sono convinti di poter fare profitto. Dall'altra parte invece i short terms sono stati quelli che hanno sofferto di più, sono quelli che abbiamo visto, se non ricordo male la settimana scorsa, hanno un po' esaurito la loro pressione di vendita nell'ultimo periodo, ma che comunque sono quelli che di fatto hanno risentito di più degli effetti della volatilità di mercato e sono andati soprattutto a perdere più soldi di quanto non sia successo per i long terms. Queste due cose vengono rappresentate rispettivamente da questi primi tre grafici dove vedete la riduzione da marzo 2020 ad oggi delle riserve dell'exchange, quindi a forza di outflow dell'exchange il bilancio interno dell'exchange è andato a calare sempre di più arrivando a questa situazione non di plateau ma di relativo equilibrio che dura più o meno da novembre 2021. Qui vedete appunto l'apporto tra inflow e outflow dove c'è un minimo di recupero dell'inflow nell'ultimo periodo dovuto all'incertezza di mercato, quindi la gente che sposta i propri soldi dei wallet dentro l'exchange magari per scambiarli, consolidare un po' di profitto e poi tornare fuori, ma diciamo che finché siamo in questa dimensione resta assolutamente valida la preponderanza delle outflow. Infine lo vedete qua invece la differenza nel, vedete, questo nella dominance ci sarebbe anche una metrica per i volumi di FTX e Binance nei futures, quindi il ruolo in realtà molto importante a livello di mercato e derivati che stanno rivestendo appunto Binance ed FTX. Quindi, ma questo vi ripeto, un discorso che vi avevo già fatto in qualche Crypto Espresso fa, conferma anche a livello di metric, a livello di dati on-chain, di come il mercato spot ormai stia arrivando ad una maggior maturità, ad una maggior stabilità, dove si utilizzano meno le posizioni spot per fare trading, per gestire il rischio, per proteggersi dalla volatilità e dove questo ruolo invece si sta spostando sempre di più nel mercato dei derivati. Le ultime due metric invece vi rispecchiano quello che vi ho detto prima sui short e long terms. terms. Qui vedete due versioni legata, una di short terms holders e una di long term holders della stessa metrica, che è la profit and loss. Cioè questo ci dice sostanzialmente quanto sia stata la chiusura in profitto e quanto la chiusura in perdita rispetto a queste, rispetto, scusate, short term holders e long term holders. In parole banalissime cosa significa? Significa che qui chi deteneva short term è uscito in profitto, qui chi deteneva short term è uscito in perdita, quindi ha chiuso perdendo soldi rispetto a quelli che ci ha investito. E stesso discorso vale qui. L'unica cosa che voglio farvi notare è questa. Nei precedenti fenomeni capitulation vedete che i colori coinvolti nella parte di loss erano molto più numerosi. Quindi le fasce di perdita erano molto più ampie, molto più ricche e hanno interessato non solo i short terms, ma hanno interessato tutti. Nel caso, scusatemi, volevo dire, gli short terms sono stati interessati in tutte le fasi di capitulation, anche con perdite molto importanti. Cioè vedete qua parliamo comunque di perdite dal 50, cioè dal meno 50 al meno 20, dal meno 80 al meno 50, quindi perdite anche importanti di capitali. Quello che invece vediamo guardando i long term è che questa cosa invece non sta avvenendo. Cioè è avvenuta, come per gli short terms nelle vecchie capitulation, ma non sta avvenendo ad oggi. Anzi, se vedete, c'è stata chiaramente una riduzione dei profitti. Comunque il mercato ha dato meno occasioni anche in long term per chiudere le proprie posizioni in profitto, ma allo stesso tempo non li ha spinti a mollare la presa, quindi non li ha spinti in direzione di una capitulation. Questo significa che i long terms, differente dalle short terms che anche ad oggi stanno soffrendo, stanno in qualche maniera conservando la palla e stanno conservando le proprie posizioni e stanno soprattutto conservando i propri sentiment, quindi si stanno mantenendo stabili nel loro considerare il mercato nel medio e lungo termine bullish. E questo è un segnale molto importante, perché di nuovo denota maggior maturità del mercato, denota una maggiore resilienza del mercato, ma soprattutto tiene il mercato in equilibrio ed evita dei drawdown come quelli che abbiamo assistito in passato. Questo significa che non assisteremo ad una capitulation in long terms? No, potrebbe essere, ma per adesso, finché il prezzo si tiene in questa fascia, i long terms continuano a non chiudere le proprie posizioni, né in profitto in realtà, vedete che è calato moltissimo, ma soprattutto non in perdita, e quindi a tenere il mercato ad un certo livello. Io ragazzi non continuerei oltre, queste sono cose che possiamo approfondire in community, con chi è dentro la community. Ma ecco, ci tenevo a darvi, come sempre, un minimo di panoramica generale. Noi ci vediamo la settimana prossima con un altro CryptoEspresso, sabato con un approfondimento, e insomma, e poi, di nuovo, o nei commenti o in community, possiamo continuare a conversare di queste cose. Vi auguro una buona CryptoGiornata, vi auguro di fare sempre la vostra due diligence e, ecco, buona continuazione di quello che resta della settimana ormai. Ciao! Ciao!